Assessore, oggi anche delle modifiche al regolamento per l'attuazione della carta famiglia che aiuteranno a risolvere alcuni piccoli disservizi che si sono verificati a causa delle scadenze. Sì, abbiamo deciso di semplificare perché cerchiamo di rendere, di agevolare la vita ai cittadini e anche alle strutture che si occupano del ricevimento di queste domande di carta famiglia. C'era un problema sulla scadenza ISEE perché era allineata, scade per tutti adesso a gennaio e quindi questo avrebbe comportato che tutte le persone che hanno diritto alla carta famiglia debbano ripresentare tutti alla stessa data l'ISEE. Abbiamo previsto invece la proroga dell'ISEE, quindi l'ISEE può comunque durare un anno e quindi chi l'ha fatto a ottobre può aspettare fino a ottobre del prossimo anno e usufruire ugualmente del beneficio. Questo per non affollare i CAF che su questo erano molto preoccupati e per non dare alle famiglie l'onere e il peso di dover tornare magari dopo due mesi, tre mesi a rifare e a ripresentare l'ISEE. Quindi una semplificazione a favore dei cittadini ma anche degli uffici che si occupano di queste cose.